Sono stati oltre un centinaio gli amministratori, soprattutto nuovi e provenienti da tutta Umbria, che hanno partecipato al primo dei cinque incontri formativi gratuiti promossi da Anci Umbria, che si è svolto questa mattina, mercoledì 3 luglio, presso la Sala del Consiglio del Palazzo della provincia di Perugia. L'incontro, dal titolo, Status e ruolo dell'amministratore locale, strumenti per affrontare sfide complesse, e con il segretario comunale Walter Canafoglia come docente, ha trattato il tema generale dell'amministrazione e degli amministratori, dalla condizione giuridica dei consiglieri comunali e degli assessori ai loro diritti e doveri, competenze e responsabilità dal funzionamento del Consiglio comunale alle deliberazioni di giunta e consiglio. Segretario Ranieri, il bilancio del primo corso? Il bilancio è ottimo, penso che abbiamo raggiunto un obiettivo importante di raccogliere un'esigenza, un bisogno da parte di nuovi amministratori. Questa è stata una tornata importante, ha visto più di 60 comuni il rinnovo dei consigli comunali, giunte e sindaci, e fare quindi un momento di riflessione, non soltanto, ma di dire quali sono gli strumenti in capo ai consiglieri comunali, il ruolo, il potere, le funzioni, anche il rapporto con la macchina comunale. È stato un elemento che credo necessario, soprattutto nella presenza di molte liste civiche, un'esperienza che non tutti vengono dalla politica, quindi dagli elementi per fare meglio il loro ruolo, credo che sia stato un elemento molto importante, mi sembra anche raccolto bene, vista la presenza di più di 100 amministratori. E i prossimi corsi quando si terranno? I prossimi corsi si terranno partendo già da settembre, la faremo a riflessione su quei suoi strumenti di carattere finanziario, si apre quindi la partita dell'approvazione dei preventivi e consultivi e quindi sarà un momento utile per i consiglieri comunali e amministratori, sia nella predisposizione che nel momento degli emendamenti, dove possono fare le proprie scelte di carattere amministrativo, quindi partiremo a settembre, poi in tutto il corso dell'anno faremo approfondimento sul tema della protezione civile, sul tema dei PNRR e codici di appalti, del tema anagrafe. I corsi successivi partiranno dal prossimo settembre, le date sono ancora da stabilire, dureranno sempre tre ore ed avranno il compito di scendere un po' più nel dettaglio del contesto normativo e degli strumenti della programmazione comunale. Tema del secondo incontro sarà, il contesto normativo e gli strumenti della programmazione comunale, con docente Stefano Baldoni. Del terzo, introduzione alla normativa in materia di PNRR, con Alessandro Formica. Del quarto, lo strumento della pianificazione comunale di protezione civile a supporto degli amministratori locali. Con Francesca Procacci ed Emanuele Volpe. Del quinto i servizi demografici funzioni statali attribuite ai comuni per il principio di sussidiarietà insieme a. Lorella Capezzali. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web di Anci Umbria.